Amici telespettatori, una parte di Polifemo dedicata al Medimex. Per quattro giorni Taranto diventa davvero una capitale internazionale della musica e non solo. Un momento di crescita straordinario per la città, un momento per fare cultura e la città si è mossa, ha voluto approfittare di questo evento, sottolineo, internazionale. Davvero encomiabile l'impegno di Confcommercio Taranto, dei suoi aderenti e in particolar modo di Federmoda. Parlo di Federmoda e ho al mio fianco il presidente Mario Raffo. Beh, davvero la città è stata tempestata tra virgolette di Locandine. I commercianti pulsavano e pulsano di entusiasmo davanti a questa iniziativa. Vediamo un po' come Federmoda si è mossa le iniziative a supporto di Medimex 2019. Un evento importantissimo, come dice Vito Luigi, ma io direi un evento straordinario, straordinario per la sua natura, una natura turistica, una natura culturale, una natura musicale, lì dove naturalmente Medimex è una delle massime esponenti nel territorio europeo addirittura. Non ci dimentichiamo, il dottor Veronico diceva durante la loro conferenza stampa che Medimex è il secondo evento musicale a livello europeo per la sua grandezza. Non per ultimo i numeri di Medimex, 30.000 visitatori paganti, più tutto l'indotto naturalmente che ci sono dagli oltre i 120 che verranno distribuiti nell'area della città di Taranto. Bene, Confcommercio innanzitutto quest'anno è partner ufficiale di Medimex. Crediamo fortemente nella collaborazione Confcommercio è un'associazione ed è fondata sul principio dell'associazionismo e della collaborazione. In virtù di questo abbiamo sposato e vogliamo continuare a sposare quindi anche un appello agli organizzatori del Medimex affinché il Medimex venga e continui a sussistere sul nostro territorio. Presidente, vediamo nel concreto quelle iniziative a supporto appunto di Medimex. Ripeto, una partecipazione attiva dei vostri aderenti. Seguendo quello che è la natura di Medimex, quindi parlando di cultura e spettacolo, abbiamo voluto stringere una bellissima collaborazione, cui ringrazio la dottoressa Sforza dell'Istituto Calò di Grottaglie e il professor Piro che ha seguito poi effettivamente e concretamente tutta l'operazione, abbiamo inventato ma così per modo di dire, l'abbiamo chiamata esposizione diffusa. Abbiamo coinvolto l'Istituto con i suoi allievi, abbiamo fatto richiesta e abbiamo ottenuto su questa collaborazione circa 70 opere d'arte realizzate dagli allunni dell'Istituto Calò di Grottaglie, di Martina Franca, di Mandoria e di Tarno. Un'esposizione eccezionale fatta di opere d'arte di valore, alcune da rimanere veramente senza fiato. Il tutto naturalmente installate all'interno di quelli che sono i nostri associati di Federmuda, quindi tutte le vetrine di abbigliamento, di calzature, e di accessori troverete le opere d'arte con tutti i dettagli di chi l'ha realizzata naturalmente e del nome dell'opera. I commercianti sono sensibili al popolo che visita Taranto e che appunto parteciperà al Medimex con delle iniziative, degli sconti particolari? Uno sconto particolare ma anche un incentivo all'acquisto del biglietto del Medimex, non ci dimentichiamo che crediamo fortemente alla manifestazione, quindi per supportarla abbiamo deciso con i nostri associati di applicare uno sconto del 20% a tutti i possessori dei biglietti dei main concert, quindi i tre concerti che si realizzeranno sulla rotonda del lungomare per il 7, l'8 e il 9 giugno. Quindi recatevi presso i negozi aderente all'iniziativa sul flyer che troverete in distribuzione con il ticket dei biglietti e saremo ben lieti di applicarvi il 20% di sconto, uno sconto eccezionale anche perché il periodo teoricamente non lo prevederebbe. Quindi vi aspettiamo numerosi, voglio ringraziare e lo rinnovo di nuovo il dottor Veronico per l'organizzazione del Medimex che quest'anno è veramente strabiliante e saluto tutti quanti. E dopo aver ascoltato il presidente di Federmoda, Mario Raffo, eccoci con Marcello Perri, presidente di Federpreziosi. Federpreziosi è davvero accanto a questa manifestazione, a questo evento. Parliamo del vostro apporto. Sì, noi siamo presenti come in altre manifestazioni, in altri eventi con Federmoda, con la presenza di Mario Raffo che da un anno che gestisce, che ha la presidenza... Non perché l'abbiamo intervistato ma ha davvero stravolto positivamente il sistema. Io colgo l'occasione, non mi è capitata di farla in un contesto, in un'intervista con un emittente alla facciore perché ha dato smalto e grande verve a una categoria che è importantissima, è una delle più importanti delle associazioni datoriali del commercio. Fatta questa premessa, dico che noi abbiamo abbracciato questo progetto come gli altri perché sappiamo dare come associazione e in particolare come associazione in generale un grosso contributo a questi eventi. Eventi che, non mi dilungo, l'ha detto già Mario, di grande importanza, di grande spessore nazionale. Speriamo che se lo ripetano è che ne possono arrivare altri perché sono questi che qualificano e danno uno smalto e una marcia in più alla città. Quindi assieme all'O, assieme al Mario abbiamo fatto quasi le stesse iniziative, tenuto conto della diversità di merceologi che abbiamo e che distribuiamo. Le mie gioiellerie associate che hanno aderito a questa iniziativa praticano uno scondo a tutti i possessori di biglietti che si recano in queste gioiellerie appunto a fare un acquisto e hanno fatto le vetrine a tema. Davvero significativo il fatto, Presidente, che siano stati coinvolti gli studenti, mi riferisco all'Istituto d'Arte Calò di Grottaglie e delle altre sedi locali sparse nella provincia ionica, un modo per far sì che le risorse e le qualità di questi giovani vengano davvero messe in evidenza. Sì, è importantissimo questo fatto, quello di coinvolgere gli istituti, le scuole in generale nella fattispecie. Nella fattispecie la mia categoria ha un punto di riferimento nell'Istituto di Taranto, nella delegazione di Taranto, dove c'è una scuola orafa molto attrezzata. Ho visto nel corso di questi anni la professoressa che ne segue i ragazzi, molto fattiva e realizzare delle opere di grande grande pregio con la quale professoressa e quindi con il reparto orafo pensiamo di fare prossimamente qualche evento sempre mirato a eventi come questo di Medimex o altri eventi che possono dare sempre, come dicevo, grande smalto, grande visibilità a questa nostra martoriata città dove se ne avessero qualcuno in più, come dicevo prima, di eventi come questi darebbero un lustro e, come dire, toglierebbero... Certi marchi negativi che purtroppo ci sono, non li possiamo mettere sotto... Almeno, evidenziamo quello che c'è di positivo nella città. Invitiamo i cittadini di Taranto e tutti i visitatori perché saremo e saranno in migliaia e migliaia l'invito a raggiungere i luoghi del Medimex attraverso le corse speciali appunto Amat attraverso la realtà dell'ape Calessino special Medimex, è anche previsto un tour in città vecchia e poi Confcommercio ha avuto l'attenzione, la sensibilità di promuovere delle escursioni in mare con nave Calaiunco e con nave Sciarra. Dunque Medimex non è solo musica ma è cultura, è turismo, è valorizzazione del territorio e davvero Confcommercio ha avuto un ruolo fondamentale o se ne dire unico. Sneakers 76, Via Pupino 43, ho al mio fianco Daniele Valente che ne è il titolare, ha voluto dare il benvenuto a Medimex, un allestimento sobrio ma molto significativo. Molte grazie, sì ci tenevamo comunque a dare importanza e supporto a questo evento che al nostro avviso è un'opportunità per la città per far conoscere un po' tutti i nostri lati positivi, ecco, far conoscere la città è un'opportunità dal punto di vista turistico, culturale e va ad allargare comunque anche per noi commercianti il bacino di utenza. Ho visto che esponete anche un quadro. Sì, è un'iniziativa che coinvolge un liceo artistico, il liceo artistico Calò e abbiamo dato l'opportunità di esposizione ai ragazzi. Sempre in tema musicale ovviamente. Sì, tema musicale e abbiamo fatto una vetrina con abbinato dei prodotti sulla stessa scala cromatica e ripeto è un'iniziativa in collaborazione con la ConfCommercio di Taranto e Federmoda che devo dire che nell'ultimo periodo si sta muovendo molto bene a partecipare, a dare supporto a queste iniziative per la città. Far crescere Taranto e visto che Taranto ospita una vetrina proprio internazionale mondiale è giusto che il mondo del commercio tarantino recchi omaggio a questo evento che è davvero unico, unico nel suo genere. Speciale in Taranto, via Anfiteatro 145. Eccoci con il suo titolare Eugenio Speciale. Cosa vuol dire per voi commercianti Medimex a Taranto? È il secondo anno consecutivo che l'evento ha luogo nel capoluogo ionico. Beh, un momento di crescita per il territorio. Sì, sicuramente un momento di crescita, un momento di aggregazione. Finalmente qualcosa fatta anche per la città, per i commercianti, per dare un attimino un po' più di visibilità anche a livello nazionale, visto che comunque sappiamo che è un evento che non è solo a livello locale, ma bensì viene sentito e vissuto proprio a livello nazionale e fa sì che di Taranto non si parli solo e esclusivamente in modo negativo, ma ogni tanto qualcosa di buono e di positivo c'è per la città. Quel marchio del logo della chitarra di Medimex è il segno riconoscitivo ovviamente di un amore verso l'evento. Avete sposato voi tutti i commercianti di ConfCommercio e non solo questa iniziativa? Grazie a ConfCommercio e a Federmoda abbiamo pensato bene di affiancarci e di promuovere questa iniziativa, così come è specificato anche nei volantini e sui manifesti, offrendo uno sconto di un 20% a tutti coloro che faranno gli acquisti in questi giorni, nei giorni del Medimex, presentando appunto un biglietto di acquisto al concerto che verrà svolto alla Rotonda in questi tre giorni di Medimex. Prosegue il nostro viaggio tra i commercianti che stanno sostenendo l'iniziativa del Medimex e stiamo con Prial in via Berardi 11, Gadgets Napapiri. Beh, la chitarra così raffigurata, effigiata sul vetro, sulla vetrina dell'attività commerciale, beh, Medimex non è soltanto musica, incontro e cultura e arte, e Taranto una volta tanto. Assolutamente sì, perché comunque è una grande opportunità per Taranto, porterà tantissime persone e diciamo che si tende a parlare quasi sempre che noi non siamo uniti, non valorizziamo la nostra città, quindi noi commercianti abbiamo voluto appunto farci vedere e farci sentire e quindi abbiamo fatto tutte queste serie di attività, di iniziative. La prima è appunto quella che si vede, sono le nostre vetrine, tutte a tema, ognuno poi chiaramente le ha fatte in maniera diversa. Personalizzate. Assolutamente. E appunto c'è stata questa collaborazione anche con il liceo artistico. Il Calò. Sì, di Grottaglie, quindi anche questa collaborazione che abbiamo avuto è stata un'idea diversa e nuova e poi aderiremo anche all'apertura domenicale che noi abbiamo spostato appunto dal 2 al 9 in modo tale che anche le persone che verranno da fuori vedranno una città attiva, quindi con negozi aperti, luce accese, proprio per valorizzare anche noi nel nostro piccolo. E ovviamente sarà un motivo per fare shopping. Assolutamente. Anche alla luce degli sconti che sono previsti. Soprattutto ci siamo unificati tutti quanti, quindi abbiamo deciso di fare una promozione tutti quanti, tutti lo stessa percentuale, quindi proprio per invogliare il cliente o il non cliente, quindi il turista che verrà a posta e mostrando il biglietto del Medimax potrà usufruire di questo buono sconto. Andriani, storica attività commerciale del Borgo Umbertino, via Federico di Palma 130, siamo con Andrea Andriani, lo dicevamo prima, quasi dovremmo dire nel backstage, prima di realizzare questa intervista, siamo orgogliosi che Taranto ospiti un evento del genere e lo sono i commercianti tarantini che hanno sposato questa iniziativa. Siamo assolutamente felici che Taranto ospiti questa iniziativa di livello internazionale. Colgo l'occasione per ringraziare anche Mario Raffo, presidente di Federmoda Taranto, il quale ce la sta mettendo tutta, tenere unite le forze del commercio moda di Taranto, con il quale stiamo facendo un lavoro molto profondo affinché queste iniziative rimangano all'interno della città e crescano con la città affinché essa possa appunto vedere una crescita anche dal punto di vista di eventi che riguardano non solo la musica ma anche insomma altri aspetti che rappresentino un miglioramento totale. Un evento che si svolge sulla Rotonda del Lungomare e non solo, quindi il cuore e il Borgo Umbertino e la vostra attività è qui ubicata nel centro del centro di Taranto. è ubicata qui dal 1991 in questo palma 130, è più vicina sicuramente, è più vicino il nostro outlet a quello che sarà il fulcro dell'iniziativa, però insomma ci siamo anche in quel caso. Anche perché poi si fa una passeggiata e si fa shopping. E noi insomma abbiamo aderito anche a quella che può essere un'iniziativa relativa a delle promozioni con degli sconti e un'attenzione in più ai clienti che presenteranno il ticket dell'evento perché insomma vogliamo appunto sposare questa idea. Medimex ha fatto innamorare anche Fusillo Gioielli, ci troviamo infatti a Taranto ovviamente in Via Crispi 73, una attività commerciale storica. Ho al mio fianco Loredana che peraltro è presidente di Asso Preziosi e parlando di preziosità certamente il Medimex lo è. Voi avete sposato e state sostenendo questa iniziativa, poi scopriremo anche che state esponendo dei manufatti del liceo artistico Calò. Parliamo di questa vostra adesione alle iniziative del Medimex. L'adesione nasce dal fatto di non voler parlare di Taranto soltanto come una realtà negativa. Tutti la conoscono come Ilba, ma noi non siamo solo Ilba. Qualche cosa di buono la facciamo e questa è una bellissima opportunità per vedere un po' di gente sperando che venga da tutte le parti, non soltanto Limitrofe ma da altre zone, anche perché abbiamo degli artisti importanti. Noi come associazione abbiamo cercato di aiutarli con delle piccole promozioni ovviamente fatte proprio per incentivare chi ha comprato il biglietto, non solo io ma anche altri colleghi che hanno aderito come Feder Preziosi. Noi siamo qui, speriamo che la città risponda ma che risponda anche qualcos'altro, non soltanto la città. Dicevo dei manufatti, delle belle opere realizzate dagli studenti del Calò, del liceo artistico Calò, un modo anche per coinvolgere i giovani e apprezzarne le loro capacità artistiche. D'altronde quando parliamo di arte, la musica è anche arte e le ceramiche lo sono. Le ceramiche sono quelle di ragazzi, le abbiamo esposte non soltanto io ma anche altri colleghi e le abbiamo esposte per mostrarle, ovviamente soltanto per farle vedere, non sono in vendita e sono qui anche se vuole. In contemporanea, mentre tu stai parlando, scorrono le immagini. Scorrono, sempre per voler far risalire questa nostra bellissima... E dare fiducia ai nostri giovani. Tanta fiducia e i giovani sono il nostro futuro, bisognerebbe guardare i giovani con un occhio diverso, non pensare sempre che è colpa tutta dei giovani, no. I giovani sono i nostri figli, quindi gli errori dei giovani sono i nostri errori. Via Cesare Battisti 82, Stefania Manzulli, con la sua attività bizzarra, avete sposato l'invito di ConfCommercio, di Federmoda e con il vostro appoggio al Medimex fate sì che Taranto abbia cinque giorni di gloria. Non è una battuta, è un modo per risollevarci, per far sì che finalmente Taranto sia capitale di un evento importante. Sì, è un evento molto importante, noi abbiamo sposato questa iniziativa, è interessante perché vogliamo accogliere il turista in una maniera... Coccolarlo, tra virgolette. Facendo infatti, dedicando una parte delle nostre vetrine al tema musicale. Poi abbiamo esposto una vetrofania, logo Medimex, e i negozi che hanno aderito e che hanno questa vetrofania danno la possibilità al cliente di usufruire di uno sconto del 20% per i possessori però dei biglietti, dei concerti che ci saranno sulla Rotonda del Lungomare. Quindi speriamo che sia un'iniziativa che dia i suoi frutti. Comunque siamo propositivi. Alla scoperta di come si accoglie Medimex, di come meglio Armata di Mare, che è il primo storico store in Italia di Armata di Mare appunto, sito in Via Liguria 103B a Taranto, accoglie questo evento. Un evento, lo voglio sottolineare ripetutamente, internazionale. Taranto compare purtroppo sulla cronaca nazionale e internazionale per le note vicende ambientali, ma Taranto, parimenti sulle cronache nazionali, deve comparire e sta comparendo per un evento quale è appunto il Medimex. E voi, Pulpito, avete voluto dare supporto e manforte a questa iniziativa, a questo evento, che è già un fatto storico, una storia nella storia, quello di essere di nuovo qui a distanza di un anno il Medimex in Riva Loionio. Sono molto contento di questa tua premessa, sono perfettamente d'accordo sul fatto che della nostra città è giusto parlarne anche in termini positivi, soprattutto quando ci si trova davanti a una manifestazione così importante che quest'anno porta dei nomi straordinari e che culmina domenica sera con il concerto di Patty Smith, sabato Liam Gallagher, domani gli editors e i cigarettes after sex. Quindi parliamo di gruppi che noi ci sogneremmo di vedere in qualsiasi altro posto, poi una sera dopo l'altra. Per cui è una cosa molto molto bella, siamo molto contenti di poter dare il nostro contributo come Federmoda, come associati di Federmoda, dove il nostro presidente Mario Raffo sta facendo un grandissimo lavoro da un anno a questa parte e quindi si è creata questa sinergia che poi tende soprattutto a cercare di far crescere la nostra categoria di piccoli imprenditori. Vorrebbe riportare la gente a passeggio tra i negozi del Borgo o del di Viale Liguria, di Vicesere Battisti, riconquistando un po' quello che era il gusto di andare in giro per negozi. Dobbiamo offrire delle alternative. Per quanto riguarda invece il Medimex, che è l'argomento... Ecco, certe iniziative chiaramente polarizzano, rappresentano una calamita, no? Per i tarantini e non solo, perché verranno da varie parti zone d'Italia. Verranno migliaia di persone in arrivo a Taranto in questo weekend, per cui è una cosa veramente importante, è una cosa bellissima per la nostra città. Noi ci siamo organizzati facendo delle vetrine a tema, appunto, dove ripercorriamo anche il cinquantenario di Woodstock che ricorre appunto quest'anno e quindi abbiamo organizzato delle vetrine a tema dove abbiamo anche esposto delle opere dell'Istituto Calò e dove offriamo ai nostri clienti per tutto l'arco del Medimex anche dei vantaggi in termini di sconto, in termini di fidelizzazione da parte nostra. Proprio perché, ripeto, sposiamo questo grandissimo evento e cerchiamo appunto di offrire anche delle alternative, di offrire dei vantaggi ai nostri clienti. Dico che certe iniziative che appunto Taranto ospita e le iniziative che voi come operatori del settore state ponendo in campo fanno sì che davvero i tarantini vogliano bene a se stessi. Dobbiamo riappropriarci della nostra identità, del nostro orgoglio di essere tarantini. E devo dire che ho notato, e questo è un merito di Confcommercio, e un merito di Federmuda, l'unità. La parola unità che manca terribilmente in questa città. Voglio precisare una cosa. Senza la coesione, l'unione di intenti in questo caso è un gruppo dove tutti remano dalla stessa parte e i risultati non si ottengono. Se noi pensiamo di poter operare nell'interesse personale non arriviamo da nessuna parte. come federazione appunto ci preponiamo proprio come priorità quella di essere uniti. Perché poi quello che vogliamo alla fine è che questa città possa in qualche modo crescere. Ma soprattutto è che questa città debba riacquisire il valore che ha. Perché io che con il mio lavoro ho girato tanto fortunatamente, non è che esistano poi tanti posti più belli di Taranto. Il problema è che noi a volte ci siamo anche, siamo un po' masochisti in questo. Dovrebbe finire questa storia. Senza dimenticare i problemi che esistono, ma per i quali insomma abbiamo le competenze giuste, ci auguriamo affinché possano essere risolti. Perché la questione di Ilva insomma sappiamo quanto male ci ha fatto e ci fa. Però dobbiamo guardare anche al bello. Vedere quella rotonda del lungomare che rende Taranto capitale, ebbè. Noi abbiamo un evento che è di risonanza internazionale, per cui è inutile che non c'è neanche bisogno di girarci troppo intorno. Siamo fortunati, dobbiamo sfruttare questa occasione che ci viene data per la seconda volta nel migliore dei modi. Ma tra l'altro poi non è soltanto questa, perché mi piace ricordare che subito dopo il Medimex c'è il Due Mare Wine Fest, ci sono tante iniziative che possono portare soltanto acqua al nostro mulino. Noi dobbiamo essere bravi a capitalizzare tutto il bello che c'è in questa città e tutto questo nuovo fermento, se così posso definirlo, che ultimamente mi fa piacere di aver notato, perché questa città merita tanto, e per cui siamo noi che dobbiamo darle una mano.